Ciao a tutti, sono sempre Greg e questo è il mio canale In Genere Horror. È finalmente uscito con una distribuzione, diciamo commercialmente ufficiale, se possiamo usare questo termine, Pearl di Ty West. Il tanto atteso prequel a partire da X a Sexy Horror Story. Perché tanto atteso e perché solo ora una distribuzione di questo tipo? Beh, il film ha avuto una comparsata nelle sale ma solo a livello festivaliero. Quindi non c'è stata una vera e propria distribuzione in sala, cosa che avrei gradito moltissimo. Ma al tempo stesso c'è stata una scelta distributiva che da spettatore non condivido sostanzialmente. Dopo l'uscita di X a Sexy Horror Story già si parlava dell'intenzione da parte di Ty West di fare un prequel e poi quello che poi diventerà una trilogia riguardo questo argomento e questo film. Un prequel che è la storia, ormai lo sanno tutti perché sono passati mesi, otto, nove mesi, da quella che è stata l'unica uscita in sala, diciamo commercialmente non considerabile per gli spettatori che vogliono andare in sala comunque a vederlo. E tra l'altro nemmeno adesso è uscito in sala, è uscito solamente in un video e su pay tv e forse anche su una piattaforma streaming, ma poi in descrizione cercherò di dettagliare meglio dove poterlo vedere. Il fatto sta che è uscito solo ora, solo in questi giorni. E ci sono delle cose che sostanzialmente non mi tornano a livello commerciale, che poi ognuno fa le scelte che vuole, però da spettatore un film di questo tipo come Pearl che narra la storia di quella che è l'anziana Pearl in X Asexy Horror Story e che qui invece è la storia di lei giovane, che sappiamo benissimo, aspirante ballerina, disillusa, che poi va via di testa già in questo Pearl, perché già qui si farà notare per le sue, diciamo, estraneazioni molto particolari, quella che è la sua delusione per non essere entrata nel mondo dello spettacolo, in maniera molto splatteri in alcuni casi, e poi tutto quello che succederà nel seguito, nel primo film a livello produttivo, ma poi narrativamente parlando in quello che succede successivamente. Ripetizione, scusate. Qui siamo nel 1918, quindi siamo in Texas, però in Europa, in perversa, e siamo per fortuna verso la fine della Prima Guerra Mondiale, il compagno Howard, che ritroveremo in X Asexy Horror Story, il compagno, il marito di Pearl, è impegnato in guerra, quindi lei da sola a casa, da sola o comunque insieme alla madre, madre molto autoritaria, che tiene su la fattoria di famiglia, è un padre invalido. Quindi per Pearl si delinea già quello che è una situazione che immaginavamo, di una situazione in cui lei è chiusa in tutto e per tutto, deve acudire il padre, o meglio ha il peso, non è che deve, ha il peso comunque fisico e psicologico di acudire un padre che non può muoversi dalla sedia a rotelle, una madre che tarpa le ali perché non considera la prospettiva di poter lavorare nel mondo dello spettacolo, perché ci si deve dedicare a quello che la vita ha riservato loro, cioè sacrifici e lavoro in fattoria, e Pearl che ovviamente sappiamo, perché lo abbiamo già intuito nel film che è riuscito in sala, quello che è narrativamente il seguito della vicenda, abbiamo già intuito che da anziana Pearl ha dimostrato e dimostrerà tutto quello che è stata la sua disillusione, quello che avrebbe voluto essere, essere apprezzata, apprezzata per la sua bellezza e per la sua bravura. Questo già lo sapevamo, quindi già proporre un film, una tematica che era intuibile, non è di per sé un problema, però se mi fai passare nove mesi da, dico nove perché mi sembra che siano nove, otto, nove mesi, dalla visione di quello che è poi la vicenda che si sposta avanti nel tempo, io per vedere un prickle di questo tipo, dove già so e intuisco che cosa succederà, ciò che Pearl è una ragazza con le ali tarpate, chiusa da una madre autoritaria e che va via di testa. Si ripresentano la situazione del lago e del coccodrillo, si ripresentano alcune situazioni che rivedremo, che abbiamo già visto meglio in X Sexy Horror Story e quindi il tutto cade, tutto il peso sta sulle spalle di una messa in scena che deve essere perfetta o comunque intrigante o comunque immersiva e poi la rappresentazione di Pearl con l'interpretazione di Mia Goh, già molto brava nell'interpretare il doppio ruolo di ragazza e della vecchia Pearl in X Sexy Horror Story, qui a interpretare la giovane, ma ci arriviamo a questo aspetto tecnico. Volevo tornare sul discorso di quanto possa essere poco attraente un film visto dopo tutti questi mesi quando già di per sé narrativamente parlando era un appendice, un'aggiunta, un qualcosa che poteva essere, non dico un cortometraggio, ma un mediometraggio in aggiunta negli extra di un'edizione speciale di X Sexy Horror Story o perlomeno se me lo proponi al cinema mi deve uscire appena è stato finito di girare quindi già da lì a poco si sarebbe potuto vedere in sala e soprattutto al cinema ovviamente. In questo modo si sminuisce un po' tutto quello che gli interessa oltre a dare poi spazio a quelli che possono essere i modi di traverso con cui uno potrebbe procurarsi la visione del film perché è curioso di vedere cosa è stato fatto nel corso di quasi un anno di distanza è il fatto che qui non abbiamo un film che può tenere sulle sue spalle una struttura narrativa di per sé così importante. Sappiamo benissimo cosa vedremo. Al di là di qualche interessante sviluppo tra le pieghe di una storia che conosciamo già vediamo una Pearl appunto affascinata dal cinema affascinata però dal balletto e dalla musica all'interno di quello che è il cinema e lo spettacolo lei sogna il balletto e verrà comunque bastonata artisticamente sia a livello di provini, di audizioni sia per conto della madre. vediamo di riferimenti interessanti vediamo questa Pearl un po' in stile Dorothy del Mago di Oz quando nel campo di grano fa questo balletto diciamo questa rappresentazione, questo rapporto diverso che ha con lo spaventapassari una scena di balletto e poi una scena un po' più osè adesso cerco di parlare il meno possibile poi del film perché se qualcuno ancora se lo deve vedere perlomeno alcuni dettagli se li godrà guardandoselo. Ci c'è qualche tentativo di rendere il tutto interessante e originale all'interno di qualcosa che di interessante e di originale ha, passatemi i termini, relativamente poco perché appunto già sappiamo che cosa andremo a vedere. Anche le scene di mattanza vera e propria più splatter, più sanguinolente che arrivano un po' più nella seconda parte verso il finale ma ci sono tutto sommato durante il film c'è sempre un po' di tensione e di paura questo abbastanza, messo in scena abbastanza bene diciamo che la parte finale sembra un po' forzata perché qualcosa ti devo far vedere a livello di mattanza lì forse la parte più debole la parte che funziona di più è quella di presentarmi Pearl in tutte le sue sfaccettature soprattutto in due momenti uno nel finale che vabbè poi lo dico ma senza dire che cosa succede nel finale e uno è il monologo è sostanzialmente il primissimo piano in cui la brava Mia Gott interpreta appunto ed esterna tutto quello che Pearl si è tenuta dentro parlando con la sua amica cognata una addirittura 7-8 minuti non so se addirittura di più di primo piano e monologo sostanzialmente di Pearl barra Mia Gott molto interessante oddio potrebbe risultare leggermente appesantito dal fatto che ripete tutto quello che già noi sappiamo quindi forse qui un po' più di tirato via però immagino che l'intenzione fosse quella di rendere drammatica e intensa una situazione che valeva la pena approfondire forse dà la sensazione di voler dare minutaggio al film spero di no nel senso che sono un po' combattuto da quello che si può sentire da quello che sto dicendo al di là del fatto che ero molto curioso di vederlo ho avuto molto piacere di vederlo perché situazioni positive elementi positivi e godibili del film ci sono ce ne sono tanti altri che sono non è per colpa di Ty West non è per colpa del regista degli autori del film ma ripeto erano abbastanza legati nel proporre e nel narrare questa vicenda perché questa doveva essere era difficile andare fuori da certi schemi era difficile andare fuori da un personaggio che nonostante in Extra Sexy Horror Story la conosciamo da anziana già tanto ci aveva detto di questo personaggio quindi era più la curiosità è un po' con l'operazione che era stata fatta ai tempi ai tempi di Rodriguez e di Tarantino che astutamente avevano proposto dei film a partire dai finti trailer all'interno di Grindhouse perché? perché era molto interessante fare il film Macete ecco e sembra quasi andare su quel livello lì probabilmente qui l'intenzione di Ty West era già quella di fare una trilogia però diciamo se ho fatto riferimento a Macete Macete era un po' più interessante perché il personaggio si prestava tante invenzioni narrative piuttosto surreali qui bisognava tenersi piuttosto sul binario di quella che era la descrizione emotiva sentimentale di crescita di una donna già adulta benché giovane perché comunque già sposata perché già sulle sue spalle deve portarsi avanti i problemi sia con la madre autoritaria quelli della fattoria quelli del padre infermo quelli dei suoi sogni che non riesce a realizzare è una psicosi è una è una una pazzia poi mentale che esploderà che probabilmente era già latente perché comunque dimostra e ha dimostrato fin dall'inizio di avere un qualcosa che noi non conosciamo la vita l'infanzia di Pearl ma la conosciamo come giovane donna già sposata con il marito che è sul fronte ci sono degli elementi che comunque Ty West cerca di inserire come il discorso dell'influenza spagnola riesce a parlare senza essere pesante di concetti come possono essere quelli della mascherina del distanziamento sociale perché c'è in questo ci sono dei riferimenti quindi un film ambientato nel 1918 ma al tempo stesso che riesce ad essere attuale nel riuscire a rappresentare determinate dinamiche e situazioni diciamo che i tentativi ci sono ci sono tanti pregi all'interno di questo film ci sono tante non dico difetti ma ci sono queste queste situazioni obbligate per cui era difficile ripeto andare fuori da certe situazioni da certi schemi che dovevano essere portati avanti più interessante X a sexy a raw story perché più interessante nello sviluppo nello che è l'aspetto più piccante quello che è la parte X la parte sexy quello che è la parte sessuale mostrata e non mostrata anzi mostrata nel film qui è un po' più accennata ci sono dei riferimenti ma si calca meno la mano forse qui si potrebbero essere più morbosi non lo so è più morboso X a sexy horror story benché sia il film quello uscito in sala quello che doveva raggiungere il grande pubblico qui si poteva essere più coraggiosi però si rischiava di essere banali e prevedibili perché già ripeto il problema del film è di dover essere per forza banale e prevedibile perché lì si doveva arrivare però diciamo Ty West ci sa fare diciamo che in questo caso non ha potuto dare libero sfogo il suo talento completamente perché ripeto secondo me è un'operazione che o fai seguire come un appendice un completamento di un film principale che è X a sexy horror story altrimenti facendomelo uscire più tempo passa facendomelo uscire a 9-10 mesi di distanza mi diventa un film a sé stante o meglio un film che deve stare in piedi e reggere sulle spalle una struttura narrativa che deve essere a sé stante che poi si riallacci ovviamente narrativamente a parlare in un altro film è un altro discorso ma in questo modo qui visto a distanza di tempo io me lo guardo e devo avere una struttura che in sé per sé mi faccia dire che bel film che ho visto non che non mi sia piaciuto ma un qualcosa che invece mi lascia un attimo perplesso a partire ripeto dalla scelta per lo meno di distribuzione in Italia dove in sala non si è visto perché festival a parte io non posso considerare un'uscita in sala in quel modo e a livello di piattaforme streaming e di home video è uscita veramente con un ritardo troppo troppo ampio per cui mi rimane un po' la consapevolezza di un qualcosa che poteva essere fatto molto molto meglio anche a livello commerciale anche a livello di strategia di proposta al pubblico vuoi che Mia Got sia brava? sì che in qualche aspetto sembra andare un po' sopra le righe un overacting che in qualche caso si rischia di avere secondo me verso il finale sui titoli di coda chi l'ha vista sa cosa mi intendo perché non è facile tenere su una prova del genere l'ho vista più centrata e più brava secondo me in X-Sexy Horror Story dove qui invece in Pearl era costretta a dare qualcosa di più e a dire devo dare la mia impronta per carità brava lei bravo Ty West nell'ambito di una difficoltà che so essere oggettiva per un film che sarebbe stato difficile per chiunque comunque il risultato in parte lo porta a casa non mi ha deluso non mi ha entusiasmato ma diciamo forse lavoriamoci un po' meglio parere mio da spettatore anche a livello di proposta per il pubblico perché noi dobbiamo poi godercelo in pieno un film in questa maniera qua è passato decisamente troppo tempo e quindi questo è anche un video in cui non voglio approfondire nient'altro se non la sensazione di quello che mi ha dato il film a distanza di questo tempo quindi quello che mi ricordo di X-Sexy Horror Story è quello che mi ha dato questo film in riferimento al fatto di essere un prequel legatissimo a quella storia perché il personaggio principale viene approfondito deve essere approfondito questo è ditemi anche la vostra perché sono curioso di sapere se il film è piaciuto e ci sentiamo alla prossima grazie a tutti